Lunedì 23 gennaio, buongiorno a tutti voi, sono le 7 del mattino, ben ritrovati, è il momento di guardare insieme le prime pagine dei giornali. Ci sono molti argomenti e vedremo anche con aperture diverse scelte dai direttori dei quotidiani, per esempio il Corriere della Sera che andiamo subito a vedere apre sulla perquisizione di fatto in una casa privata del Presidente degli Stati Uniti Joe Biden dove sono stati ritrovati alcuni documenti segreti riservati che probabilmente non potevano essere lì. E allora si poi si ricostruisce su questo il fatto che magari questo potrebbe ostacolare una sua ricandidatura per un secondo mandato. Ma ci sono anche altre aperture perché ci sono altri temi importanti come la guerra in Ucraina, la vicenda, lo sapete, dei carri armati e Leopard 2 tedeschi che la Germania non vorrebbe di fatto consegnare alle autorità ucraine mentre non direbbe nulla se lo facesse la Polonia. Insomma sono molti i temi aperti. Allora partiamo dalla prima pagina del Corriere della Sera, come vi dicevo, pressing dell'FBI su Biden, gli avvocati, controlli concordati con gli agenti, un rischio però vedete per la candidatura nel 2024. E poi la casa del Presidente perquisita per 13 ore trovate nuove carte segrete. Restiamo per un momento negli Stati Uniti perché si è conclusa la caccia all'uomo di quell'uomo che aveva ucciso 10 persone altrettante ferite in un locale frequentato soprattutto dalla comunità asiatica che festeggia da ieri il Capodanno Lunare. Allora l'uomo bloccato dalla polizia, lo vedete in questa foto qui con questi due blindati che hanno incastrato il furgone bianco utilizzato per la fuga, vi dicevo l'uomo si è tolto la vita per non essere catturato. Allora ecco qui vedete 10 persone uccise al Capodanno cinese. Per un momento restiamo ancora sulla prima pagina del Corriere della Sera perché ieri missione di governo del Presidente Meloni in Algeria resterà anche oggi. E allora Meloni missione per il gas e sul nordio il guardasigilli piena fiducia. Perché? Perché lo sapete ci sono polemiche nelle ultime ore proprio a proposito del disegno di legge. Andiamo sulla Repubblica. Ospita un'intervista del corrispondente Claudio Tito al Presidente del Consiglio Europeo Michel. Il titolo più aiuti dall'Unione Europea. Il Presidente del Consiglio Europeo Michel estendiamo il sur e creiamo un fondo sovrano. Non escludo un altro recovery. E poi Macron e Scholz. Ieri sono stati celebrati i 60 anni di questo accordo tra Francia e Germania. Subito una risposta ambiciosa dell'Unione agli incentivi americani. Salviamo la competitività dell'industria. E ancora però la vicenda che vi dicevo a proposito dell'Ucraina. Berlino autorizzeremo la Polonia a dare i tank Leopard 2 all'Ucraina. Sotto questa fotonotizia ritrae i genitori di Giulio Regeni, il ricercatore friuliano ucciso in Egitto. In Egitto ieri c'era il Ministro degli Esteri italiani, ha incontrato le autorità egiziane. Il Ministro Al-Sisi lo ha rassicurato sulle intenzioni dell'Egitto di fare chiarezza su questa vicenda. Però i regeni, vedete, dicono che è un oltraggio dire che l'Egitto collabora. Restiamo per un momento sulla prima pagina di Repubblica. Perché? Perché domani saranno passati 20 anni dalla morte di Gianni Agnelli, dell'Avvocato Agnelli. Allora c'è un ricordo del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, l'ostinata attualità di un grande italiano. E poi lo ricorda anche Mario Monti, intervistato dal direttore di Repubblica Molinari. Così ha fatto crescere il nostro Paese, a proposito della figura di Agnelli. Allora andiamo sulla stampa. Ci sono queste due fotonotizie. Una è il ricordo dell'architetto Renzo Piano, che ricorda Gianni Agnelli, appunto a 20 anni, domani saranno 20 anni della sua scomparsa, io e l'Avvocato. E poi andiamo però nella parte alta, andiamo a vedere il titolo d'apertura. È sulla missione in Algeria della Meloni e sulle vicende che vedono comunque un confronto politico più serrato tra le forze di opposizione alla maggioranza. Meloni, fiducia in Nordio a proposito delle intercettazioni, ma il Governo resta diviso. Ci ricorda però la stampa anche lo sciopero, che non è stato revocato per mercoledì e giovedì prossimo, dei Benzinai. C'è un'intervista al Ministro Urso, vedremo che cosa dice. I Benzinai però confermano lo sciopero. Intervenga la Premier, noi non trattiamo più. Restiamo sulla prima pagina della stampa per parlare di Ucraina, perché abbiamo un'analisi di Lucio Caracciolo. Qui vedete il vero dilemma dell'Occidente. E poi sopra però c'è anche l'annuncio fatto dal Ministro della Difesa Crosetto, e cioè l'Italia manderà i missili, intanto la Germania, ci ricorda, è sotto assedio sull'invio dei Leopard 2, che non vorrebbe appunto fornire all'Ucraina. Abbiamo il tempo di vedere anche la prima pagina del Messaggero. Il titolo d'apertura è sulle intercettazioni, Meloni, Blinda Nordio, avanti sulla giustizia. E poi una nota ieri proprio di Palazzo Chigi, dice piena fiducia nel Ministro. Tra l'altro nei prossimi giorni dovrebbero incontrarsi. Gas dall'Algeria, ecco il piano, perché c'è un'intervista al Ministro Tajani, che ne parla, il rigassificatore di Piombino dovrà entrare in funzione in Premiera, ma soprattutto, come vi dicevo prima, la missione della Premier Meloni, che da ieri in Algeria ci sarà anche oggi e poi rientrerà in Italia. Sono le 7 e 6 minuti, linea alla regia, qualche istante di pubblicità, e se volete ci ritroviamo subito dopo. Noi siamo qui e vi aspettiamo. Qualche secondo alle 7 e 12 minuti, la prima pagina intanto che ho preso è quella del Sole 24 Ore. Andiamo a vederla insieme. Allora, il titolo, effetto inflazione e casa ai costi della crisi, i mutui più lunghi con importi più bassi, il rialzo dei tassi di interesse cambia la richiesta, in manovra un set di misure contro i rincari. Poi sotto salgono i prezzi, però, ristrutturazioni difficili, il fattore energia fanno crescere. La domanda di immobili nuovi. Così il Sole 24 Ore. Andiamo a vedere il fatto quotidiano. Abbiamo molti titoli, quello centrale, Matteo Messina Denaro, Tumbarello e il Sise di Mori. Si sapeva da 11 anni. Stasera il report all'ex sindaco Vaccarino ne parlò nel 2012 in udienza. E poi, però, andiamo a vedere anche queste due notizie in alto. Meloni si tiene un ordio, ma due italiani su tre sono contro i nuovi bavagli. E poi quest'altra inchiesta, Mediapart, Sahel, così la Francia in dieci anni, ha favorito la rimonta della Jihad. Anche il fatto quotidiano, lo vedete sotto, ricorda la scomparsa di Agnelli. Domani saranno 90 anni. Agnelli, come nacque il mito del signor Fiat. Così appunto il fatto quotidiano. Vediamo il domani. Il PD ha la ricerca di una bussola, lo sapete. Questi sono i candidati per la successione di Enrico Letta. E allora Marco Damilano ovviamente analizza quanto accade nel Partito Democratico. Andiamo a vedere il foglio. La speculazione è buona. Capiamo sopra dalla ripresa, dalla foto di un distributore. Stiamo parlando dello sciopero dei benzinai, ma non soltanto. E allora andiamo a leggere il sommario. È il bau bau della politica italiana. È il fantasma accusato dei rincari del gas e dell'energia elettrica. E prima delle mascherine, in realtà è un elemento necessario per il funzionamento dei mercati. Ed è anche una forza positiva. Una spiegazione con l'aiuto di Einaudi e dei promessi sposi. Questo è il foglio. Vediamo il giornale. In alto il guardasigilli Nordio. Parliamo di intercettazioni. Lavmeloni, Blinda Nordio. Perché lo blinda? Perché ieri è uscita una nota di Palazzo Chigi proprio che è blinda appunto il ministro. E poi, nel nome del caos, rottamazione continua. Il PD si autodistrugge e adesso litiga anche su come chiamarsi dietro allo scontro i soliti D'Alema e Bersani. La notizia dello sciopero, eccolo qui. Sciopero, benzinai, urso, media, ma i gestori restano indignati. Questo è il giornale. Vediamo Libero. Ospita un'intervista al presidente del Senato, la russa. L'andremo a leggere. A due pagine. Mi attacca. Chi non vuole la pace sociale. E poi sotto il titolo sul Nordio tentano l'assalto a Nordio per mandare a casa la Meloni. Ancora altri giornali. Vediamo il resto del Carlino. Meloni, Blinda Nordio. Piena fiducia. Il tempo. Ecco l'Italia che resiste. Prove di ripartenza. L'Istituto Piepoli sui cittadini fiduciosi nel futuro nonostante guerra e Covid. E poi paese meno stremato di quanto ci si attendesse. Rinviati solo i grandi acquisti. Poi i consumatori dell'Udicon tiriamo fuori il meglio quando siamo in difficoltà. E poi sotto, vedete, i benzinai confermano lo sciopero il 25 e il 26 di gennaio. La verità. La grande stretta su fumo e alcol serve a dare la colpa a chi si ammala. L'ideologia della salute come costa. E poi si torna a parlare della vicenda di Biden. Di quei documenti ritrovati nella casa del Presidente, alla dimora privata del Presidente degli Stati Uniti. Gli perquisiscono a casa e trovano altri documenti segretati. Chiudiamo con la Gazzetta dello Sport. Rabbia Juve da battaglia in campo in tribunale. Rimonta due volte l'Atalanta. Risposta d'orgoglio almeno 15. Questo è il titolo della Gazzetta dello Sport. Allora andiamo a vedere le pagine interne. Partiamo da Repubblica. Vi ho detto che ospita un'intervista a due pagine. A Charles Michel, il Presidente del Consiglio Europeo, il titolo Nessuno vince da solo. Nuovi fondi comuni per l'economia dell'Unione Europea. Questo è quanto dice in uno dei passaggi dell'intervista che gli ha fatto il corrispondente di Repubblica, Claudio Tito. E allora leggiamo almeno una domanda. Per avere un'Europa forte, in grado anche di aiutare l'Ucraina contro la Russia, serve un'economia forte. E così risponde Michel, c'è un collegamento molto stretto tra Chieff e crescita economica. Per noi è fondamentale non aprire la porta alla frammentazione del mercato interno. Sarebbe un errore esaminare la situazione caso per caso. Servono regole comuni. Continua l'intervista anche a pagina 3, sempre a Michel. E allora leggiamo i sommari. Dare solo maggiore flessibilità agli aiuti di Stato penalizza i paesi più indebitati. La solidarietà ora è necessaria. Bisogna allargare il Fondo Sur per il lavoro e le imprese e creare un veicolo sovrano comunitario per gli investimenti. E ancora a proposito di Ucraina, Chieff teme un contrattacco russo, va sostenuta in ogni modo. Servono forniture militari e nuove sanzioni. E allora andiamo su Libera, pagina 4. C'è un'intervista al Presidente del Senato. Dice con la pace sociale alla sinistra è finita e mi attaccano solo per sabotarla. Però parla anche d'Europa. Dice sono tutti terrorizzati, politici, intellettuali e giornalisti. L'Europa più che per i grilli preoccupa per la guerra che fa ai prodotti italiani. E allora vediamo anche in questo caso. Andiamo a trovare una battuta, una risposta che fa il Presidente del Senato a proposito d'Europa. Pietro Senaldi dice è vero che vuole ribaltare l'Europa da dentro. Strategia opposta rispetto all'attacco frontale tentato dalla Lega di Salvini. E così risponde la Russa. I nostri discorsi sull'Europa risalgono a prima della mia elezione al Presidente del Senato. Discutiamo sulla possibilità che la rotta dell'Unione possa essere invertita. Meno eurobureocrazia di stampo di regista al servizio di stati più forti. A favore di una confederazione che rispetti autonomia e sovranità nazionali. Ma soprattutto, Fratelli d'Italia, ritiene sempre in naturale l'alleanza tra socialisti del PSI e popolari. Ossia tra sinistra e destra. Tant'è che uscimmo dal PPE per questo motivo. Un'alleanza tra conservatori e popolari potrebbe davvero cambiare l'Europa e renderla più vicina ai cittadini. Questo è quanto dice appunto la Russia intervistata. A proposito di Europa, torniamo su Repubblica. A pagina 4, perché ieri c'erano stati i 60 anni dall'accordo tra Francia e Germania. Allora vedete, Parigi e Berlino provano a riaccendere la locomotiva europea. Ma sotto, Andrea Bonanni fa questa analisi. Dice, il doppio gioco di Francia e Germania rischia di far saltare il mercato unico. E allora, andiamo a leggere qualcosa. Perché? Che cosa scrive Bonanni? Una risposta rapida e ambiziosa all'Inflection Reduction Act, la legge voluta da Biden, che inietta 730 miliardi di dollari nell'economia americana e rischia di mettere fuori mercato le imprese europee. È quello che hanno promesso ieri Scholz e Macron, riuniti a Parigi per celebrare i 60 anni del trattato dell'Eliseo, che sancì la nascita dell'asse franco-tedesca. Promessa incoraggiante. Peccato che il presidente francese e il cancelliere tedesco l'abbiano fatta cadere dall'alto di una montagna di oltre 400 miliardi di aiuti di Stato straordinari che i due paesi si sono già fatti accordare nel 2022 dall'Unione Europea in deroga alle regole sulla concorrenza. Questo appunto è quanto scrive Bonanni. Andiamo a parlare però di un'altra vicenda che troviamo sui giornali, quella delle intercettazioni. Lo sapete, c'è un confronto anche abbastanza duro tra maggioranza e opposizione. Meloni, Blinda Nordio, ieri c'è stata una nota di Palazzo Chigi che ha rinnovato la fiducia al ministro, piena fiducia in lui, ora vertice sulla giustizia. E poi però sotto c'è un'intervista allo scrittore d'ex magistrato Carofiglio che dice dal ministro solo pericolosa propaganda che genera impunità. Questo è quanto dice. Allora andiamo a vedere ancora, andiamo su Repubblica, pagina 7, c'è il retroscena di Tommaso Ciriaco, dice la Premier in realtà sarebbe furiosa, chiede disciplina, sospetti sulle mosse di Forza Italia e Terzo Polo. Questo è quanto sarebbe trapelato. Vi ricordo che la Meloni si trova ad Algeri. Parliamo di mafia. La cattura di Matteo Messina Denaro, c'è un'intervista a Scarpinato, è un senatore del Cinque Stelle ma soprattutto è l'ex procuratore, dice la mafia non è morta ma c'è chi vuole rottamare il 41 bis. Ancora la Premier, Blinda Nordio, a proposito di intercettazioni, piena fiducia, breve un incontro. E poi il viceministro Sisto dice Forza Italia da sempre con lui, le intercettazioni sui costi, una riflessione è necessaria. Quindi vedete le due cose si uniscono. Ancora sulla stampa Meloni, Blinda Nordio, l'ha voluto fortemente, la fiducia in lui è massima. E poi c'è il sottosegretario della giustizia del Mastro. Una cosa è parlare da giurista, dice un'altra, e fare il Ministro. Andiamo a vedere ancora, parliamo dello sciopero dei benzinai. C'è un'intervista, pagina 7 del Corriere della Sera al Ministro Urso, dice il peggio è passato ma la vera ripresa arriverà dopo la metà dell'anno. L'Unione Europea aiuti gli investimenti. Vi ricordo che il Ministro Urso ha chiesto ai benzinai di retrocedere. Ecco la risposta con il Presidente dei distributori. Il Governo elimini le sanzioni e la protesta sarà revocata. Non siamo noi gli speculatori. E allora io mi fermo qui con le notizie dei giornali. C'è Paolo Sottocorona, gli do il buongiorno. Io dico soltanto questo. Stamattina il termometro della macchina segnava 2,5 gradi qua davanti. Abbiamo speranza che salga la temperatura? Ciao Paolo, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Allora, uno, non fidatevi dei termometri della macchina perché misurano temperature che non sono quelle di riferimento. Due, siamo in inverno. La temperatura media di Roma d'inverno è intorno, in questo periodo, le minime, intorno ai 4 gradi. Quindi non siamo nel grande gelo artico, antartico, siberiano, dategli il nome che volete. Fa freddo. Ma metà è normale e metà è normale che sia un po' fuori media, insomma, perché le medie sono fatte da alti e da bassi. Allora, comunque si manterrà un poco. La primavera è lontana. La situazione di questa mattina, nord e centro con nuvolosità estesa e precipitazioni di una certa consistenza, specie sulle regioni settentrionali, con limite della neve piuttosto basso, evidentemente 500 metri. Anche un po' meno, ne parleremo ancora. Qualche schiarita invece sulle altre regioni dove comunque le temperature appunto restano piuttosto basse. Vediamo la previsione per la giornata di oggi. Beh, tutte le zone del nord e buona parte del centro, soprattutto il versante adriatico con precipitazioni, che vedete, il giallo ci indica quantità elevate. Quindi non, diciamo, qualche fiocco di neve o qualche goccia di pioggia. C'è proprio maltempo ancora. Più irregolare, questo conferma l'immagine di questa mattina, per quello che riguarda il sud. Qualche fenomeno intenso ci può essere, ma vedete, è un po' a macchie, a piccole zone, mentre il medio versante adriatico e, diciamo, l'Emilia Romagna, l'Appennino settentrionale soprattutto, hanno delle zone piuttosto estese di maltempo. Vediamo come evolve questa situazione. Domani si attenuano in parte, con qualche strascico, questi fenomeni al nord e su parte del centro, Sardegna e poi miratamente verso il sud c'è un'altra zona di maltempo, che mercoledì si farà, diciamo, sentire un poco di più, soprattutto fra le isole maggiori. Poi, vedete, sulla penisola le precipitazioni ci sono, ma sono in prevalenza o deboli il verde o moderate il blu. Le temperature minime di questa mattina, a proposito di quello che stavamo dicendo, evidentemente piuttosto basse. Questi colori, appunto, che riguardano anche non solo il nord, evidentemente, dove le temperature sono molto basse, ma anche il centro. Le zone interne del sud, anche delle isole, hanno valori piuttosto bassi. Forse è più anormale al sud questa temperatura che sulle zone del centro. Chiudiamo con lo stato dei mari. Mossi o molto mossi quasi tutti. Alto Adriatico, Mar Ligure, Canale di Sardegna, anche agitati. Guardate, è a ovest quel giallo, che sembra un colore tranquillo, ma è più forte del rosso, nel senso che è un mare molto agitato. L'altezza delle onde supera i 5 metri. Se volete ci vediamo intorno alle 7.55, adesso pubblicità. E poi la prima edizione del nostro telegiornale con Fabio Angelicchio. Dai più tardi.